Falso, sei un falso, vergognati. Sei meno falso di Aiden, sei un po' più furbo, ma sei falso lo stesso, vergognati. Chissà che te lo tolga nel codice creatore. Indovinate chi parlerà di un altro youtuber take in questo video? Esatto, proprio io. Prima di iniziare però vi ricordo di andare nello shop e inserire il codice supporto a un creatore OctiPFI scritto tutto maiuscolo, tutto minuscolo, è uguale, in modo che lo abbiate qua in alto. Si toglie ogni 14 giorni, quindi fatelo per assicurarvi che ci sia. Lo scorso episodio, quello su Aiden, è andato molto molto bene e nei commenti mi avete consigliato un altro canale da, diciamo, farvi vedere. E qui urge un problema perché la cosa divertente è che questo canale, che ormai l'avrete capito si parla di Sykes, ossia questo tipo qua ritagliato perfettamente in questa copertina qua, non è proprio, proprio un creatore di contenuti fake, è più un furbo un po' strano. La cosa che mi ha sorpreso è quando lui stesso ha fatto un video contro Aiden, cioè che senso ha tu che sei un creatore di contenuti comunque per lo più fake, fai un video contro Aiden che fa video fake? Ma la vera domanda è, ma perché ti fai un video con il bacio qua col rossetto? Cioè, la mia domanda è, perché non puoi lavarti? Non c'è un rubinetto a casa? Cioè, vabbè, ma cosa vuoi dimostrare? Che c'è l'amorosa che ti limona sul collo? Di solito è qua, la bocca si limona con la bocca, vabbè. Cioè, e il brutto è che ci fa anche le copertine, nel senso in questa copertina qua si vede anche lì il bacio. Cioè, non capisco allora è un tatuaggio? Che cos'è boh? Ma non siamo qua a offenderle persone, stiamo parlando dei contenuti e delle furberie. Perché dovete sapere che Sykes non è proprio fake, ma è più furbo. E fa delle cose un po' scorrette. Io ho preparato qua un paio di video, il più eclatante è come avere gratis il cavaliere nero su Fortnite. Ma di questo ne parleremo più in là. Bug, 60 livelli del pass battaglia gratis su Fortnite. Quindi, video dove lui praticamente non fa altro che dimostrare la falsità di Aiden. E ridere e di qua e di là. Ok, va benissimo tutto. Ma perché allora subito dopo, cioè dopo 2-3 settimane, fai un altro video completamente identico, dove per 8 minuti non fai altro che dire cose a caso. E qua e là e destra e sinistra parlando di tipi spagnoli e qua e di là. E alla fine del video dici che non esistono video del genere, che non esistono cose del genere. Ma soprattutto la cosa divertente è che bisogna arrivare a 10 minuti e 1 forzatamente. Nel senso che il video finisce qua, però per altri 1 minuto e 30 c'è sto tipo qua che non so chi sia. Ok, fare un video dove dici non esistono video per fare V-Bugs gratis e magari farlo tra 3 mesi. Una cosa è ogni mese sganciare 2, 3, 4, 5 video chiamato nuovo bug per fare i V-Bugs gratis. Dove poi dici le stesse identiche robe, ossia non esistono e le dici in 10 minuti e 0-1 forzatamente. Qualcuno si è abbonato in questo momento al canale? Il prossimo video che andremo ad alzare, skin e V-Bugs gratis, in arrivo su Fortnite. 13.000 views, almeno sto video è da 5 minuti e non da 10 minuti forzati. In questo video, oltre a spammare 7 volte il suo codice creatore, cosa che fa? Inizio video, poi verso la metà del video, poi anche più in là verso la fine del video, e qua è destra e sinistra e riguardo il suo codice, cioè dappertutto. Ecco, anche tutto il video qua, ormai questo lo fanno tutti. Parla di questa skin qua e dice skin e V-Bugs gratis in arrivo su Fortnite. Facendo vedere questa immagine, probabilmente facendola vedere, questa immagine, si è reso conto di quanto stupido è da solo, perché guardava l'immagine, ne parlava e poi si rende conto che qua c'è scritto 19,99. Allora lui dice, in realtà non si sa se sarà gratis o se costerà appunto 20 euro. E allora perché comunque nel titolo lo scrivi, non si sa se sarà gratis o se costerà 20 euro? E lui fa, eh sì, perché comunque nonostante qua ci sia scritto 20 euro, come vedete qua ci sono le sfide e allora sarà gratis. Ma che cavolo stai dicendo? Che c'erano anche per il Ranger dell'Amore Oscuro? Era la stessa identica cosa, pack da 20 euro, con le sfide apposta per guadagnare dei V-Bugs man mano. Infatti come c'è scritto qua, si guadagnano 2500 V-Bugs, come si guadagnano con le sfide, con queste sfide qua. Ma non è gratis, perché comunque costa 20 euro, quindi non sta a dirmi, eh sì, non si sa se costerà 20 euro o, come fa a vedere lui con la freccia, no? Oh, siccome ci sono le sfide sarà gratis? No, no, sarà gratis. Pinocchio, scritto sulla mia maglia. Ragazzi, occhio a non farvi fregare da youtuber come questo, perché veramente se vi fate fregare da cose del genere, cioè veramente, ci avete l'immondizia al posto del cervello. Ma Octi è buono, Octi è qui per aiutarvi, per spiegarvi. Octi PFI nello shop per sempre, raga, connessionati puri Octi PFI nello shop, eh, mi raccomando. Raga, supportatemi tutti, perché se non mi supportate non potete vincere. Eh, tutti, tutti ti supportiamo. O la vostra che ti dice, non sai X, ma se ti supporto, tu come fai a saperlo? Dovete anche mandarmi lo screen su Instagram. Quindi tutti quelli che mi supportano, mandatemi lo screen su Instagram. Mi raccomando, raga, inviatemi lo screen, se no non so che partecipate, quindi. Lui, in questo video di da tre minuti, ai primi dieci secondi l'ha spammato, dopo un minuto siamo ancora a questa immagine, e dopo un altro minuto siamo ancora a questa immagine. Praticamente, molti di voi fan mi hanno regalato. Molti di voi fan mi hanno regalato. Appunto, degli account col Cavaliere Nero. E io cosa me ne faccio di dieci account col Cavaliere Nero? Perché ogni giorno milioni di fan, soprattutto tu che hai 86.000 iscritti, ti regalano tanti, ti regalano il loro account col Cavaliere Nero. Perché chiaramente uno che gioca dalla season 2, che ha scioppato il pass, eccetera, domani si stufa di giocare e dice non vedo l'ora di regalare il mio account col Cavaliere Nero a Sykes. Nessuno mi ha mai regalato a me, e come a tanti altri youtuber che conosco, nessuno ha mai regalato un account. Sykes è il benedetto da Dio, e gli regalano ben dieci account. Dieci persone che giocano dalla season 2 o dalla season 1, si stufano e regalano il proprio account a Sykes. Benedetto lui. Ovviamente li regalo a voi. E lui ovviamente li regala a voi. Perché chiaramente, se domani uno mi dona in live 10 euro, io la prima cosa... Cioè lui, questa persona, si separa di suoi 10 euro per darli a me, per farmi una donazione a me, per ringraziarmi del mio lavoro, io cosa faccio? Prendo questi 10 euro e li regalo ad altri. Perché mi sembra più che corretto che uno si sacrifichi, sacrifichi una parte di sé, questi 10 euro, per regalarli a me, e io come lo ripago, dico, bene, adesso io li regalo agli altri. Ma perché questi contest vengono sempre fatti solo con i Cavalieri Neri? Tutti account dei Cavalieri Neri, tutti che givano qua account con la Renegade Raider, account col Cavaliere Nero. Oh, che strano. Solo questi account ci sono. La gente che si stufa di giocare a Fortnite hanno tutti il Cavaliere Nero. Che strano, però, che strano proprio, eh. La cosa più fake in tutto ciò, ragazzi, immaginatevi così. Adesso io dirò le stesse identiche cose che ha detto lui. Ragazzi, moltissimi fan mi hanno regalato un sacco di soldi nelle live, abbiamo 10 milioni di euro qui dentro. E io ho deciso di regalarveli a voi. Perché è bello quando i fan mi regalano un sacco di soldi e io ve li regalo a voi. Quindi, di conseguenza, non dovete fare altro che supportarmi come un creatore, mandarmi la foto su Instagram, seguirmi su Instagram, seguirmi su Telegram, attivare la campanella, lasciare un mi piace, commentare questo video con il mio partecipato e commentare con una roba in realtà il video, guardare tutti i miei video, lasciare un mi piace a tutti i miei video, condividere tutti gli amici e fare questo e fare quello. E solo così potrete vincere i 10 milioni di euro contenuti qua dentro che mi hanno dato dei fan che non avevano più voglia di avere un sacco di soldi, me li hanno regalati a me e io ho detto di regalarveli a voi. Io non vedo niente di diverso da tutto ciò, mi sembra una roba da stupi di credere a queste cose qua. Se volete credergli, supportatelo come creatore e andate su Instagram a mandargli le screen. Se non volete farvi prendere per il culo, supportate me, codice occhi pefine. E poi nelle storie di Instagram dirò il video. Ah, nelle storie su Instagram. E perché non fai un post? Perché nelle storie? Perché nelle storie? Spariscono dopo un giorno. Quindi puoi scrivere quello che ti pare, puoi anche non farle mai e dire eh ma io l'ho fatta se tu te la sei persa. Problemi tuoi. Perché non fai un post? Perché non fai lo youtuber vero eh? Perché non fai lo youtuber vero? Perché tutti con le storie su Instagram? Perché questi youtuber farlocchi falsi tutti a dire andate su Instagram perché lo dirò lì il vincitore nelle storie? E perché non ci fai un video come ho fatto io eh? Un anno fa quando facevo i contest dei V-Bucks e abbiamo fatto un video, un video per spiegare, per spiegare chi aveva vinto eccetera. Ma perché abbiamo fatto una determinata scelta e alla fine abbiamo donato i soldi alla WWF? Perché non le fai in video queste cose eh? Perché non fai vedere proprio palese palese tutte le cose? Oh su Instagram? Falso. Falso sei un falso vergognati. Sei meno falso di Aiden, sei un po' più furbo ma sei falso lo stesso. Vergognati. Chissà che te lo tolga nel codice creatore. Falso che non sei altro. Oh ma è questo? Questo è il più interessante di tutti? Quasi eh? Ci stiamo avvicinando sempre al clou dell'azione. Adesso mettiamoci le cuffie e prepariamoci a vedere, a sentire le stupidate che dice alziamo il volume. Ricordatevi sta roba perché praticamente è l'intro che mette in ogni video praticamente. Se lui finché non si spama sette volte con un metodo fake e dopo andremo a vedere perché è fake questa roba qua, finché non se la spama un milione di volte non va bene. Ok abbiamo capito il tuo coach supporta un creatore che non userà nessuno per se è un truffatore. Ho fatto un gold trooper nei file di gioco per quello che sto parlando di questo. Allora ragazzi io vi sfido cioè a contare insieme a me quante volte dice appunto sto tipo in due nanosecondi. Appunto che già molti dateminer hanno trovato nei file di gioco. Ma molti chi? Dico appunto la skin gold trooper e appunto questo pack che contiene appunto la mimetica quella per le armi e appunto la skin e il cavaliere, nel senso lo scudo del cavaliere però fatto a gold trooper nei file di gioco. Per quello che sto parlando di questa skin che forse tornerà appunto, no tornerà sicuramente a ottobre nel... Ma tornerà sicuramente nello shop a ottobre cosa? Ma cosa? Ma non è vero non tornerà probabilmente, non tornerà il gold trooper. Fatto sta che questo pack è un concept. Cosa significa? Che è qualcuno che si è divertito a fare diciamo la copertura e lo scudo con queste robe qua e lui dice eh sì dei dataminer hanno scoperto. Ma dove? Ma fai vedere delle immagini scusa ma... Eh degli dataminer hanno appunto trovato, dei dataminer hanno trovato appunto un leak appunto dove dicono che daranno il cavaliere nero e tutte le skin più rare come la renegade e qualsiasi altra skin e 100.000 V-Bucks appunto a tutti i giocatori di Fortnite appunto che giocheranno a Fortnite. Oh! Oh sì perché l'ho detto e allora se l'ho detto allora è vero, cioè si sa sicuramente è la verità. Fa rivedere quest'immagine, tra l'altro quest'immagine non è nemmeno ufficiale di Fortnite, c'è anche scritto The Ghoul Pack by Tovertosti. Sto Tovertosti ha fatto sta immagine, dai. Ma quale leak dai? E il nostro saggio Mattia gli scrive spero che tu sappia che le skin già uscite non possono essere messe su pack. Non è stato trovato nei file di gioco, è un concept. Cioè almeno c'è gente con la testa? Sei falso. Hai rotto che scrivi che sono gratis, poi non sono gratis. Ma qual è la strategia di Sykes per fare visual? Lui fa vedere qualsiasi roba che non esiste, che è un concept, scrive nuovo ombrello di diamante. Io sto video non l'ho visto tutto, l'ho schiffato milioni di volte. Come ottenere l'ombrello di diamante. Nel video dice semplicemente che c'è questa immagine trovata dai dataminer. Chiaramente non è trovata dai dataminer, è un concept di qualcuno che ha preso su paint e ha dipinto l'ombrello color diamante. E lui dice forse verranno aggiunte nel gioco, non si sa. Io scommetto che questo video Skin Apple in arrivo su Fortnite è la stessa identica cosa. Lui che dice non si sa se arriverà o no. Eh questa è l'immagine, non si sa. Guardate, ci scommettiamo, io non l'ho visto. Raga, sto per vedere la cosa più cringiosa di tutto il mondo. Ma che cos'è? La dimostrazione di questa schiffa. Ma che cos'è questa cosa? Ma è palesemente fake. Ma è palese. Ma è lontano un miglio che è palese. Cioè, ma nel riflesso non si vede niente. Nel riflesso non si vede sta roba. Nel riflesso lo schermo è bianco. Ma si vede che è un'immagine nera appiccicata sopra. A parte la qualità orribile. Ma guardate il riflesso. Nel, cioè, vedete il riflesso dell'uomo? Cioè, ma il riflesso del telefono è diverso. Ma è fakeissimo. Ma per favore. Ma dai.